Ti ho sentito arrivare, amico. Sono davvero felice di rivederti, credimi. Sarai anche uno stupido patriota dagli occhi azzurri, ma sei l'unico altro chitarrista che conosco. Sono di passaggio. Devo trovare Wyatt e Caroline. Potresti venire con me. Sono nel posto giusto, sai? Il governo mi ha messo proprio in trappola. Apprezzo l'offerta, ma non ho fatto altro che fuggire per tutta la vita. Sono stanco del silenzio. Quando sarò morto avrò tutto il tempo per restare in silenzio, ma adesso, proprio ora, sarò molto rumoroso. Grazie a tutti.